ok ragazzi siamo tornati su clandestine stavolta invertiamo i ruoli io faccio laker ero fa la spia andiamo a fare la seconda missione vai a vedere come corre vedete ragazzi quando vi dico che ha sembianze cioè che ha non mi sembra molto etero ecco vedete come corre dai fai al piano di sopra first things first owing to our unexpectedly swift resolution mexico city we now have a field mr mansoor will be our singleton i've instated katia and martin as an operational unit that will have to do unfortunately there's no time to rest CIA lost a man in Copenhagen last night he and mansoor working on the same operation and that connection is too strong to be a coincidence we have to strike while the iron is hot his code name was Absalom he was a knock agent embedded in the danish parliament as a government official at 1830 last night the local spy shop tried to apprehend him and apparently he started shooting the danes returned fire and he was killed details are thin on the ground so far nobody knows why the danes tried to grab him or why he fought back we're going to put the field team on a plane to Copenhagen in three hours and the outfit itself needs to go down this evening I know it's not ideal to go on with so little time to prepare but our best hope is to search Absalom's office in the parliament building before danish intelligence strips it clean isn't this the kind of thing mansoor should handle mr. mansoor is fresh out of the torture chain he will need a few days to recover no time to waste then we'll work out the rest of the details on the plane one last thing you're in you're in the big leagues now no more real names on the radio kozlova your call sign is whisper Zimborski your condor the rest of us back here at mission control are cast needless to say if you get caught no one will come hope for the best plan for the worst good luck condor i'm in position testing one two can you hear me loud and clear everything's looking good on my end how are you doing do you need a minute i'm ready castle whisper is live ok stavolta io sono lecker e rao e la tizia dello stealth la spia steso è una rossa così stende chiunque ok ti vado ad aprire la porta che è esattamente laggiù dove sta girando l'admin citazioni che per fortuna nessuno può capire bella la città lì disegnata ma c'è il dio delle città come no ci sono qua io 6277 torno in zona franca non ho trovato una vhs con delle info eh eh perché questo gioco è ambientato nel 96 abbiamo detto no? si quando sono andato io ai tempi c'erano le vhs sento dei nemici uno è qua e uno è qua ok si quando sono andato io ai tempi c'erano le vhs sento dei nemici uno è qua e uno è qua ok se no no e no eh sì te li ho segnati io intanto dovresti vederli hanno iniziato a fare la ronda uno sta venendo dalla tua parte è alla tua destra vedo un modo si problema è che se lui mi vede dietro gli oggetti è un po' simpatico attenzione attenzione ah ok ok si sta camminando verso di là eh se lo vuoi andare a fregare non penso passerà lì per il cadaveri cioè almeno spero vabbè io lo posso fare arriva uno arriva uno è lì ecco questo mi sa che non verrebbe da eliminare eh ma adesso sta arrivando anche quell'altro si stanno radunando facciamo una cosa provamoc'è lo muovo a controllare è lì è lì no telecamera telecamera dove dove cazzo non la vedo dove sei ok se è questa l'ho presa ah no stanno arrivando minchia uno due e uno fermo lì che non riesco a inquadrare sorry arriva l'altro è qua riprendo la telecamera sta arrivando il due ok adesso è rimasto l'altro due diciamo che sta risalendo le scale e adesso è bloccato lì nelle scale quello del sopra mi ne frega niente sta scendendo eh sta venendo da te non lo colpirò mai è vicino a te ok quando vedrai come l'ho colpito inizierai a ridere o a piangere adesso attenzione comunque lì dentro c'è un'altra telecamera vedo l'ho preso lì ce n'è uno aspetta stai fermo cerco di guardarti un po' anche al piano di sopra il piano di sopra sei intenzionato a salire? non lo so dove devo andare quindi intanto sto sotto la telecamera almeno non mi vede no e l'ho presa io la telecamera attento che l'altro sta facendo la ronda sta venendo dalla tua parte e lì ce n'è un altro vai via di lì numero due cosa hai visto? che abbia visto i cadaveri numero due non ce l'ho è al piano di sopra lo vedo che arriva si sta arrivando vabbè si aggiunge ai cadaveri problemi suoi è vicino a te no no c'è nel senso lo vedo che sta scendendo si si eccolo qua sta arrivando mi ne metto qua così non lo frego se poi è meglio farlo sparire ti ha individuato mi sa no vedo che lampeggia è lì tanto ma si gira vediamo se ci arriva un tempo sei attento la telecamera eliminato uno ok vai via di lì ce ne sono alcuni ho sentito che hanno trovato un corpo ma non so da quale parte allora provo a guardare questo questo è in allerta e sta scendendo giù di sotto ti sta venendo a prendere uno solo uno giallo uno giallo problemi suoi sta arrivando eh ma ok scendessi attenzione da l'aria ok proiettili da parte come stiamo messi se ti fermi un attimo posso vedere un attimo allora abbiamo tre intel su dieci ti posso droppare le munizioni mi sa se ti interessano qua c'ho ancora i caricatori sopra la metà ti interessa un medikit? no tanto mi sciottano no più che altro la strada tu come obiettivo no non ce l'hai neanche più tu l'obiettivo secondario attenzione vai telecamera ok ah c'è la camera te la indico se la vedo fatto 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 manco farà luce attenzione che questa stanza ne hai due quindi passa da dritto ecco lì attenzione vai dove aspetta cerchi di inquadrare no ok ne vedo due ok ti ti segnalo questo questo mi guardo un po' attorno numero tre non vedo numero tre ma perché niente nel no non ti appare ancora no non fa niente perché io lo faccio così facciamo la cosa inversa dove cade? oh mo almeno numero due numero tre devo non notarlo dimmi quando il problema rimane numero uno ah c'è numero tre l'ho trovato se mi metto qui in mezzo all'erba dubito che serva come protezione ma scusami un attimo se tu passavi adesso dove sei tu tutto a destra tutto lungo il muro e passavi dietro e passavi dietro numero uno eh il problema è numero due che per come guarda non so se mi vede quindi mo se se riesco a superare numero uno e ripagere attira tre e due numero uno guarda da un'altra parte quindi si riesco allora numero uno penso che non ti guarderà se numero tre va al cicalino tu potresti far fuori numero due e passare comunque passare per l'angolo ha funzionato mi spaventa al due secondo me se tre va al cerca persone due lo puoi far fuori con un colpo in testa veloce se lo becca va fallo squilla ok numero tre adesso andrà aspetta vai ora ok vai 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 ah no numero tre numero due sei insospettito ma cammina come un deficiente sta andando verso numero ex numero due no neanche la ricarica da sola perfetto il caricatore è andato me ne rimangono quasi due metà pare che il cespuglio almeno protegga perché stavo a un metro non mi ha visto ok vai giù e lì c'è il completamento della missione cioè della prima parte potevi anche rancogli il rolimpager cazzo ok vediamo qua a 10 c'è uno orca boia è lì però è bianco tranquillo non t'ha visto intanto guardo la zona no vedo solo lui un altro qui telecamera telecamera è più avanti no? lo so ma devo andare a ammazzare numero uno vabbè te la blocco non vorrei ammazzarlo qua ce ne sono altri due sta venendo uno verso di te numero uno qua non mi da neanche una copertura ideale no ormai è troppo vicino lo spostate qua dietro di te c'è un cancelletto lì c'è un cancelletto si ha il buon senso di arrivare fino all'angolo si vediamo un po' dai che sei una guardia pigra si bravissimo aspetta no fermo no ok vai i politi in modo brutto per dire polizia ecco bravo sbadiglia bravo numero uno così che dormi in piedi attenzione qui c'è tizio vai dritto dove c'è tre la telecamera l'ho già fermata ok ti blocco quest'altra e attenzione perché ne hai aspetta fermati ne hai tre che sta camminando di lì poi c'hai questi due cioè adesso il tre è diventato uno e ne hai due davanti al palazzo attenzione che si stanno guardando uno verso l'altro quindi ci sono tutte e due le zone coperte mhm non so se dovrebbero muovere mo si penso che restino lì uno sta per scendere rapido 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 no non guardare ok attenzione metal detector attenzione ah potrei dire che l'ho disattivato uff è passato in tempo attenzione presta attenzione non fare Rambo no no io mi metto controlla allora guardia si qua guarda che telecamere è bianco è bianco telecamera qua ci sono altre te lo vado a seccare non in questo piano e non in quest'ala vediamo il piano di sopra se intanto pensa a quella che dici vi facci tre switch qui ma muori ci metteremo troppo cosa c'è qui si apre c'è una vadigetta lì ti posso dar supporto se ti interessa ah e allora non ancora l'obiettivo a che piano è ci guardo allora c'hai il 2 lo vedo nell'altra ala c'è una telecamera proprio eh ma ce n'hai una anche lì alla tua destra quindi se lascio questa vai 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 vadi 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 fantotti vadi ma metà di lei no è congiuntivo attenzione c'è una guardia ormai mi tocca far giro è solo lei altre telecamere aspetta che adesso la guardia sta venendo dalla tua parte insomma cioè si è fermata sembra che fa retro front la telecamera l'ho bloccata io ah no vai 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 tranquillo sarò solo insospettito un attimo lo aspetto qui perché ho fatto messa rumore oh qui c'è un numero 2 mi sa attenzione che la guardia sta arrivando eh ha sentito il suono quando vieni surprise madafaka vai entra pure nello stanzino top che c'è con i fogli 8076 la porta al piano di sotto quale porta? ah numero 2 dice di qua no numero 2 dice a me dice ad alto a destra insieme uno su tre l'altro numero 2 sarà un altro numero non penso se il numero ah l'altro numero 2 è proprio nell'altra ala telecamera eh scusa vai altra camera vai altra ala dritto no dritto 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 te lo dico io quando adesso devi andare a sinistra aspetta che ti devo aprire la porta no no ho preso il numero come era 8027 no me l'ho già scordato 8026 no ah che palle c'è una memoria breve eh non me lo ricordo di più iniziava con 80 29 no dai ce la possiamo fare 8076 attento lì dietro di te non è successo niente ce n'è uno lì la cucina sta venendo verso di te mi sai ah no è andato di là immagino dove è l'obiettivo aspetta che c'è la telecamera la stanza è libera la stanza è libera la stanza è libera la stanza è libera dove era tu i cambi bastardi attento che sta venendo verso di te uno uno a casa no numero uno Ok Chi l'ha trovato che non vedo nessuno Eh, questo è la stanza di prima Ah, sì, è qua Non lo vedo, lo vedo Non chiamare rinforzi, vieni a controllare te Sta arrivando, eh Bene, problema risolto Ecco, però stanno arrivando all'altra parte No, pensa che sarà buggato lui No Sì, è qua Non più Telecamera Questa? Sì Non ti vedo più Ah, sì, sei lì, ok Non ti riconoscevo in mezzo ai cadaveri Siamo identici Ok, uno si fa il giro dall'altra parte 3, 2, 1, 4 Minchia, che password Oh, ho sbagliato io Quasi più complicata delle password dei nostri server Quasi però A parte c'era l'ascensore, perché? Vabbè Pare che sì Sta arrivando Lo vedo nella telecamera Ok, Pedro non c'è più C'è ancora la telecamera Ok Sprecare i proiettili No, perché ho fatto la cosa non letale per far prima Però in sicurezza un proiettile io lo faccio Problemi suoi Letale Ok, vai giù Vai giù Che l'obiettivo è laggiù E il numero 2 dov'è? Il numero 2 è dall'altra parte Ma intanto vai a numero 1 Che devi andare su quel computer Attenzione che c'è un'altra telecamera Giocatela bene Aspetta, aspetta Fermo Fermo Vai all'altra stanza Vai, vai tranquillo Non l'hai stupato Non l'hai stupato Vai tranquillo Vai No, posso rompere i cosi della polizia Bello come ufficio Ok Unico floppy che trovo Mi serve una password Guardati attorno Perché l'obiettivo lo dà contro il muro alla tua sinistra Dove c'è una macchia di sangue Ehi, una cassaforte Mi serve sempre il codice Io se vuoi hackero sto computer Vedo cosa ne ricavo Guardati anche attorno nell'ufficio Che è Eh, sto leggendo un foglietto Ma No Dice solo Info Non utili Questo è un altro soggetto Da 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 E via via Uhuh Questo si accede Posso Una di queste Da un codice Qualcosa del genere Oh, aspetta Katia Il complano della figlia Di È 14,9 Ah Però Meglio così Di punta Mi sparano lo stesso Allora Al mio via Camera 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 Azione Ehi Prima che quelli arrivano Che aprono la porta Io chiudo questa E prendo Camera Ok Scendo di qua Volevo prendere l'ascensore Ma Qui li entravano Era tardi Visto che tattica Bello Qua davvero ci sta La cosa De Nio E Morpheus Quando sta Negli uffici Telecamera È presa Sì Non sento guardie Non mi vedo Sulle scale Attenzione Che devo fare Cambio camera No Non serve Non mi vede Il problema Al mio via Il laser Ah Ok Fatto Molto bene Fuori dai cordioni Pare di no Perché no Ah Perché tu devi Cercare ancora Nel computer Di Absalon Ah Vabbè Nel 96 Quindi che Windows C'era XP No Nel 96 C'era Windows 95 Ok Giustamente O Mil Eh Poi c'era 2000 No Poi c'è stato 98 98 Second edition Millennium 2000 XP Vista 7 8 8.1 10 Mi sono persi Molti Eh Vabbè Non avevi neanche interesse A quei tempi Te li puoi sempre montare In virtual machine Se vuoi Per farci cosa Assolutamente nulla Perfetto Ah ok Ho trovato Bene Fuori dalle mele Mission Complete Ok ragazzi Abbiamo completato la missione Stavolta io ero l'hacker E Rao era la spia E senza Mai fallire Esatto Alla prossima Enjoy Enjoy